L'Abruzzo si prepara ad essere ancora più attrattivo con l'evento organizzato da Confesarcenti e Federpate, la federazione dei professionisti del turismo attivo ed esperienziale, con il patrocinio delle più importanti istituzioni regionali. Il 24 e il 25 novembre, all'Aquila e Pescara, torna infatti Abruzzo attrattivo, che vedrà la presenza da tutta Italia dei rappresentanti degli organismi e delle istituzioni che si occupano di turismo, come spiega Paolo Setta, presidente di Federpate Abruzzo. Abruzzo attrattivo è una manifestazione, ormai il primo e unico evento interamente dedicato al turismo attivo e esperienziale in Abruzzo. Giunto all'ottava edizione, quest'anno un'edizione coraggiosa perché la prima giornata inaugurale all'Aquila presso l'auditorium del Parco e la seconda giornata a Pescara presso l'auditorium Petruzzi e il Museo Leggenti di Abruzzo. Fondamentalmente il nostro obiettivo è quello di un cambiamento culturale ed operativo, stare insieme, fare lealmente, nel rispetto delle regole della qualità, fare un turismo di qualità in una terra che ancora oggi siamo convinti può esprimersi a livelli altissimi perché le sfide future non sono sui numeri ma sugli standard di qualità e continuiamo a ripetere che il turismo è una cosa seria. Daniele Damario, assessore regionale al turismo, cosa può mettere in campo la regione Abruzzo per migliorare il settore? Metteremo in rete le istituzioni con i professionisti del turismo esperienziale, con i professionisti dell'accoglienza. Sarà un momento per riflettere sui dati anche del 2022 e sulle prospettive del 2023. Evidente che l'Abruzzo è sicuramente una meta privilegiata per chi vuole fare delle proprie giornate di vacanza, delle giornate attive, quindi legate ai cammini, legate ai borghi, legate all'enocastronomia, legate alla bicicletta. Oggi il turismo è questo, devo dire, un fenomeno ampliato anche dal Covid, dove le persone, magari pur di non frequentare posti troppo antropizzati, si sono rivolti verso le aree interne. Devo dire che l'Abruzzo, essendo la regione verde d'Europa, offre tutto quello che un turista vuole fare come esperienza durante le proprie vacanze. Lido Legnini, direttore di Confesarcenti Abruzzo, come è cambiato però il turismo, anche alla luce di questa crisi energetica? Purtroppo sta influendo tanto, molte attività stanno scegliendo di aprire solo nei picchi di alta stagione, questo non va bene. I nuovi trend dicono che il turista oggi cerca varie motivazioni per scegliere la sua vacanza, non gli è più sufficiente andare al mare d'estate o in montagna d'inverno o d'estate, quindi cerca anche altri motivi per cui scegliere una destinazione e tra questi c'è sicuramente il turismo esperenziale, il turismo attivo, l'escursione. In Abruzzo abbiamo questa peculiarità, abbiamo molti operatori giovani che si stanno dedicando a queste attività, Abruzzo Attrattivo vuole essere un contenitore che in qualche modo li metta insieme e li metta soprattutto in relazione con il mondo della ricettività alberghiere ed extra-belghiere della nostra regione.